bentornati sul plutonia publication podcast io sono sempre alessandro sono sempre scrittore sono sempre podcaster sempre youtuber e sempre anche così pare sedicente divulgatore del fantastico e la puntata di oggi si innesta ben bene nel filone del cinema del fantastico allora recentemente su youtube sul mio canale andate a vederlo trovate il link in descrizione mi sono occupato dei film di alcuni dei film dei mostri classici della universal al momento in cui sto registrando questa puntata ho parlato di frankenstein di dracula di tarantula che sarebbe la tarantula gigante di chi ha altri faccio mente locale di del mostro della laguna nera anche se non l'ho ancora pubblicato in questo preciso momento ma lo pubblicherò presto dell'uomo lupo prossimamente me ne accuperò di altri oggi volevo parlarvi di un altro film classico cult del genere fanta horror ma che non è della universal quindi lo registro ne parlo qui sul podcast e non in video anche perché la puntata settimanale del podcast è un appuntamento sacrosanto anche se poi va in onda anche su youtube in formato solo audio ma cui non voglio rinunciare per i miei ascoltatori su spotify speaker sulle altre piattaforme di podcasting di cosa vi parlo oggi di uno dei miei film preferiti che ahimè è piuttosto difficile da reperire parlo dell'esperimento del dottor k the fly titolo originale molto più sensato film del 1958 diretto da kurt newman che era un regista tedesco naturalizzato statunitense e tratto dal racconto la mosca the fly dell'anno precedente del 1957 di george langelan racconto che pochi mesi fa è stato finalmente reso disponibile anche per il mercato italiano da nicola pesce editore quindi questa non novità se volete leggere anche il racconto da cui è stato tratto questo iconico film potete finalmente farlo il film tra l'altro lo diciamo subito ha avuto due seguiti quindi ha dato origine alla trilogia interpretata da vincent price che super icona del cinema del brivido i seguiti sono la vendetta del dottor k del 59 e la maledizione della mosca del 65 poi ci sono stati due remake uno celeberrimo del 86 la mosca di david cronenberg di cui credo aver già parlato da qualche parte forse su instagram vabbè ormai ho prodotto talmente tanti contenuti che non so neanche più collocarli bene e la mosca 2 il seguito del 89 dimenticabilissimo di chris wallace il titolo italiano del film del 50 del 58 è effettivamente bizzarro anche perché il titolo originale è molto più semplice molto più azzeccato the fly ed è tratto paro paro dal racconto che si intitola come abbiamo già detto the fly allora perché questa fantasiosa traduzione perché l'esperimento del dottor k perché i distributori italiani hanno pensato che la tematica del film ovvero l'uomo insetto ricordasse molto l'opera la metamorfosi di frank di franz kafka autore che qui conosciamo bene perché apro chiuso parentesi personale col mio marchio il mio brand editoriale ho pubblicato kafka punk un'antologia di racconti a tema kafkiano ebbene i distributori hanno pensato accidenti questo film parla appunto di un uomo insetto un po come la metamorfosi quindi franz franz kafka e qui il dottor k che non c'entra una beata beata mazza perché il protagonista del film non si chiama k non ha la k come iniziale bensì si chiama franzois de lambre quindi proprio non c'entra assolutamente niente ebbene allora probabilmente sapete di cosa tratta mi dico come inizia il film ci sono degli spoiler come al solito helen de lambre sconvolta confessa al cognato alla polizia e allo scrittore charas di aver ucciso suo marito andrè schiacciandogli la testa e un braccio con una pressa idraulica la donna sembra aver perso la ragione e non fornisce alcun motivo sensato a questo gesto tuttavia il cognato che appunto raccoglie la sua confessione nota un certo nervosismo nel comportamento di helen alla presenza di una mosca dopo aver parlato col figlio della coppia philippe le fa credere di aver trovato quella mosca che sembra turbarla al che la donna crolla e racconta una storia davvero straordinaria orribile e bizzarra e qui a inizio il film il marito di helen aveva realizzato un teletrasportatore una macchina in grado di scomporre la materia trasferendola nello spazio per ricomporla altrove lo scienziato dopo aver constatato che il congenio funzionava sugli oggetti inanimati ha deciso di sperimentarla su se stesso convinto che fosse possibile smaterializzare e teletrasportare con la stessa facilità anche degli esseri viventi mentre entrato nell'abitacolo della macchina l'uomo non ha fatto a caso alla mosca che è entrata con lui in questo modo l'esperimento si è trasformato in una tragedia nella gabbina di arrivo si sono materializzati un uomo con la testa e una zampa di insetto e un insetto con una minuscola testa e un braccio da uomo e dell'ambra dopo aver celato l'aspetto mostruoso la moglie nella vana speranza di trovare un rimedio e aver chiesto la moglie stessa di cercare in caso una mosca particolare con una piccola testa bianca una zampa bianca più piccola l'ha scongiurata di ucciderlo per porne fine alla sua disperata condizione e di distruggere il laboratorio preoccupato che i risultati di questo esperimento potessero finire nelle vani sbagliate poi il film prosegue la polizia non crede alla confessione di elena e la incrimina per omicidio finché finché philippo il figlio della coppia riferisce lo zio di aver trovato la bizzarra mosca della testa bianca in giardino quest'ultimo si precipita avvertire l'ispettore che li segue dopo qualche riluttanza e fatto rientrare philippo in casa si accorgono di una febile voce che invoca aiuto atterriti scoprono così la mosca uomo imprigionata senza più scampo in una ragnatela con un ragno che sta per divorarla e poi c'è il finale almeno questo non ve lo spoilerò perché vabbè almeno il finale ve lo vedete purtroppo dicevo il film è un po difficile da reperire quantomeno in lingua italiana io l'ho cercato su diverse piattaforme ma l'ho dovuto rivedere in lingua inglese immagino che ci sia su canali alternativi diciamo così quindi se sapete aggirarvi tra zone un po meno legali del web potrete trovarlo se no ci sono diversi spezzoni su youtube allora il produttore qualche aneddoto il produttore kurt newman scoprì il racconto un racconto breve tra l'altro una novelette di langland leggendolo dapprima sulla rivista playboy che da sempre per chi non lo sapesse ha pubblicato racconti di genere horror e fantascientifico tra le donnine nude l'ha mostrato newman al capo della divisione riservata ai b movie della century fox della 20 century fox e proponendogli far uscire questo film per la regal che era una sotto sotto filiale della fox ma alla fine il film fu distribuito nei cinema proprio come pellicola ufficiale della fox e questo ha contribuito sicuramente alla sua diffusione al fatto che sia arrivato al grande pubblico e che abbia avuto un enorme successo tant'è che la sceneggiatura venne giudicata come una migliore prima stesura ricavata da un racconto tanto che sono state necessarie solo piccole modifiche di poco conto alla trama del racconto per trasformarla in un soggetto e poi in una sceneggiatura cinematografica quindi è molto fedele il film alla storia tranne per alcuni particolari per esempio è stata spostata dalla francia al canada e poco e poco altro insomma il casting è stato abbastanza immediato anche quello ma soprattutto il film vanta la presenza di vincent price che come ho già detto vincent price è stata una grande una delle grandi mascheri chiamiamola così uno dei grandi interpreti del cinema horror di quegli anni degno successore di vari lonciani le imbol scarloff bella lugosi lui è venuto un po' dopo ed è stato un gigante assoluto tuttavia nonostante l'atmosfera del film sia molto cupa sono appunto delle storie dietro le quinte decisamente ilari per esempio vincent price ricorda una scena particolare che dietro tutta questa cupezza che stavano girando c'era la scena della mosca uomo ritrovata nella ragnatela con la sua flebile vocina che diceva aiuto 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 si sente proprio così nella anche nel doppiaggio italiano una flebile vocina aiuto 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 che faceva talmente ridere gli attori e tutti i membri impegnati alle riprese che furono necessario venti tentativi per girare questa scena senza risate senza ridere insomma un aneddoto particolare il film come ho detto è stato distribuito da 20 century fox è stato presentato a san francisco nel luglio del 58 ed è stato accolto come un capolavoro dell'horror fantascientifico sono state lodate le performance di price di originità della trama e la macabra sequenza finale in cui appare la mosca con la testa d'uomo attualmente ancora detiene il 95 per cento di recensioni positivi su rotten tomatoes che indica un grandissimo successo da parte della critica il film il film è stato poi omaggiato tante volte appunto la trama che ho raccontato è praticamente identica a quella della mosca di kronenberg solo che cambiando decenni più avanti c'è tutta un'altra interpretazione tutta altra atmosfera tutti altri effetti speciali diciamo che il film di kronenberg è un body horror vero e proprio questo è molto più d'atmosfera a me posso anche sommensamente dire che l'esperimento del dottor k mi piace anche un po di più e poi ho già detto ci sono due seguiti della stessa trilogia consiglio soprattutto il terzo perché è ancora più nichilista forse della trilogia mentre il secondo ha un finale tutto sommato ottimista noi vogliamo invece i finali tragici quando si tratta di horror e di fanta horror questo è l'aneddoto questa è la storia di un film che ha segnato l'epoca del fanta horror e dell'horror della fantascienza ha pescato temi che poi sarebbero stati di assoluta attualità per negli anni a venire per il cinema del new american horror e non solo abbiamo già accennato al body horror questo è stato una sorta di antesignano del medesimo ma anche tutta una serie di ritrovati poi entrati nel sentire comune come il teletrasporto quell'anno lì nel 58 praticamente una cosa quasi sconosciuta merito anche all'auto o soprattutto l'autore del racconto va detto assolutamente sì va bene ci ho detto vi saluto con quest'altro film spero di avervi spinto a cercarlo rivederlo anche se probabilmente l'avete già visto una volta questi film passavano in chiaro sulla rai e più volte pensate un po voi se no andatene a caccia perché sebbene sia datato ne vale veramente la pena io vi saluto vi do appuntamento con ogni probabilità a settimana prossima col podcast e poi riprenderemo come già annunciato anche quelle puntate doppie del lost boy show con sveva simeone con tante storie di cinema e non solo del fantastico e non solo iscrivetevi ai miei canali ovunque vi pare telegram youtube spotify insomma seguitemi se avete la pazienza la voglia se siete curiosi leggete qualche mio racconto o mio romanzo che è il modo migliore tutto sommato per sostenere tutto ciò che faccio o che facciamo in coppia vi saluto alla prossima e buone visioni